Musica Buonasera Pier, io volevo sapere la tua opinione per i Veggenti di Medjugorje. La mia opinione sui Veggenti di Medjugorje io vi invito a usare il vostro discernimento. La missione della Madonna è preparare il mondo al ritorno di suo figlio, confermare le profezie e svelare la scienza dello spirito. Quindi la bontà dei messaggi dei Veggenti, Medjugorje e tutti gli altri la ritrovate quando il messaggio contiene un monito e un consiglio all'umanità, che non è certo pregare, perché è duemila anni che preghiamo e va tutto sempre peggio, quindi non è quello. Quindi c'è Madonna e Madonna, quindi una è la Madonna vera, l'altra è una Madonna falsa, che è la Madonna della comodità, la Madonna del dolce far niente, la Madonna che alla fine non ti spinge a nessuna azione, che non ti ammonisce come una madre amorosa che ti dice dove stai sbagliando. Siccome i Veggenti, i contattisti e tutti coloro che servono il cielo vengono sottoposti allo stesso livello anche nella tentazione, cioè sono più tentati che le persone comuni possono accadere, purtroppo succede quasi sempre. Quindi ci sono molte esperienze, a parer mio anche in quelle di Medjugorje, che sono partiti a razzo e sono finite come tu ben sai. Grazie. Ma non è importante ciò che accade ai Veggenti, è importante che noi comprendiamo e facciamo nostro il discernimento di capire, qualsiasi sia il contattista o il Veggente, se il messaggio è vero. E il messaggio è vero se parla di legge, di castigo, inteso come giustizia, di profezia, di revisione della nostra vita, di accusa al male, compreso quello del clero. Ad esempio, le apparizioni di Garabandal, il Vaticano non le riconosce, nonostante l'enorme numero di fatti miracolosi avvenuti, perché il messaggio di Garabandal è principalmente sulla corruzione della Chiesa. E quindi se ne guardano bene dal divulgarlo. Capito, va bene, grazie. A te.